Il calcio, come gli altri sport, è un'immagine della vita e della società. In campo c'è bisogno uno dell'altro, perciò ogni giocatore deve mettere le sue capacità a servizio di un ideale comune, che è quello di giocare bene per vincere. Sono le parole che Papa Francesco ha rivolto ai calciatori della Via Real arrivati a Roma per disputare una partita della Europa League, esortandoli a lasciare da parte egoismi, individualismi e aspirazioni personali per rafforzare piuttosto lo spirito di squadra. D'altra parte, ha aggiunto Bergoglio, mentre si gioca a calcio, si educa e si trasmettono valori, soprattutto ai più giovani, perciò ogni calciatore ha una grande responsabilità, quella di dare il meglio, di comunicare l'impegno, il saper fare squadra, la bellezza del gioco. Una delle caratteristiche principali dello sportivo, ha ricordato poi il Papa, è la gratitudine e il saper essere riconoscenti a chi ci ha aiutato a diventare quelli che siamo, i compagni, gli allenatori, gli assistenti, persino i tifosi. Fare memoria di ciò è fondamentale anche per non sentirsi mai superiori, per imparare a cadere, rialzarsi in campo quanto nella vita e per conservare la freschezza del gioco amatoriale. Affidando i giocatori all'intercessione della Madonna delle Grazie e del patrono della città di Villareal, San Pascal Bailon, Francesco ha confidato di amare molto il calcio, in particolare la figura del portiere che deve bloccare la palla, ma non sa mai da quale parte arriverà, così la vita bisogna apprendere le cose da dove vengono e nel modo in cui si presentano.